In Algeria nascerà il Celaseo I, il Papa che deciderà di dedicare al Martire Cristiano Valentino una festività dedicata agli amanti che avrà lo scopo di sostituire la festa pagana che si festeggiava in questo periodo. La festa ebbe subito successo numerosi sono i bigliettini ed auguri che innamorati si sono scambiati in occasione di questa festività numerosi sono i gadget che sono nati per ricordare questa festività. La festa degli innamorati si celebra il 14 febbraio di ogni anno. Gli innamorati in questa occasione si scambiano biglietti di auguri, cioccolatini, gadget di ogni tipo. Gli innamorati in questo periodo. Gli innamorati in cui al Grazie a tutti.